Sentite, io ho preparato una cosa oggi, è il momento di mettersi le cuffie Voglio farvi ascoltare la nostra nuova canzone Perché è la prima canzone e voglio un vostro giudizio Perché ci siamo, come si può dire Quando ci abbiamo lavorato Eh, tantissimo Momento X Factor 3, 2, 1 Abbiamo preso lezioni di Fetless d'Andrea Presti Siamo stati sullo yacht di Flavio Beatore Siamo stati perculati da Dario Monsha Abbiamo rilanciato Fabrizio Corona Guru Langa, oggi intervista al pagante Fate attenzione che ora sono un cantante Guru Langa, oggi intervista al pagante Fate attenzione che ora sono un cantante Ma che ci abbiamo già provato cantando insieme ad Albano A quei tempi ancora ero solo un profano Abbiamo intervistato anche bello figo ed è proprio per questo che Guru Langa, oggi intervista al pagante Fate attenzione che ora sono un cantante La base ce l'hai segnata Ricky Leroy È di perplesso Per farlo Penso incredibile Steven Basala rissuona la number one Guru Langa, oggi intervista al pagante Fate attenzione che ora sono un cantante Grazie, grazie, grazie Ragazzi, cosa vi vogliamo dire? Sembra... È una hit o no? È una hit Ma chi è che canta? È bellissimo Siamo contentissimi di questo pezzo Ho solo una domanda da farvi Ma sembra quella dei piccoli tattici Povero Però oggi non la facciamo C'è una domanda scomoda Vi siete fatti aiutare dall'intelligenza artificiale Grazie E io infatti era lì che volevo arrivare Sì Perché noi per alcune cazzate di un nostro GoPro Whatsapp Usiamo spesso quell'applicazione lì per creare delle canzoni Però il testo l'avete messo voi, le parole Quindi c'è del genio Però ecco, io volevo capire Infatti io gli ho detto, ho cantato io, no? E volevo vedere se ci credevate a questa cosa Per poi arrivare a dire No, guardate, a dir la verità Ha fatto tutto l'intelligenza artificiale Che io quando ho provato questa roba Ho detto, cioè, è pazzesca Fa paura questa cosa Fa paura questa cosa Cioè, secondo voi porterà dei problemi A chi fa il vostro mestiere? Guarda, il mercato è già saturo Gli artisti si fanno scrivere tutti Ma praticamente tutti le canzoni da altri autori Se si mette anche l'intelligenza artificiale Non cambia lì Potrebbe essere d'aiuto su tante cose Poi adesso dipenderà Quanto si evolverà questa cosa Dell'intelligenza artificiale Su queste cose Non lo so Al momento probabilmente può essere solo che d'aiuto Però magari per alcuni lavori All'interno dell'industria musicale Può essere che Un domani andrà a creare dei problemi a qualcuno Non lo so Spaventa più per altri lavori, secondo me Comunque voi siete più spaventati Oppure abbracciate comunque il progresso E in un caso vi fate... Ma io un po' sono spaventato Però vabbè cosa devo dire Cioè sono sbalordito E anche mai era positiva Comunque Cioè è figo Cioè è per questo che non ho avuto tanta reazione Perché avevo già capito Era concentratissimo L'intelligenza artificiale onestamente Perché ragazzi Cioè è assurdo Io semplicemente ho scritto il testo Ma in dieci minuti Mi sono messo lì Ho cliccato un bottone E ha fatto base Musica Si ha messo bottone tipo Simi indie Qualcosa del genere E in automatico ti ha fatto Io ho messo semplicemente Ho messo trap Mi ha chiesto il genere Ho messo trap, hip hop, funk Ah ok Un mix di tutto questo Gli ho dato il testo Mi sentivo più indie sotto certi Sì io Gli ho dato il testo Poi con un bottone crea In 30 secondi c'era la canzone E io sono rimasto così Siamo qua a parlare E cantare Traorecchiabile Traorecchiabile È una hit Cioè ti rimane in testa E comunque io penso che Sfera Pagante Tony Stiamo arrivando Sto arrivando La cosa bella Che a tutti gli effetti Ve ne potreste impossessare Cioè di questa melodia Cioè a tutti gli effetti Potreste dire che è vostra Sì E nessuno potrebbe dire niente Non so se poi L'intelligenza artificiale Usa la stessa melodia Anche per altre prove Esatto E poi in quel caso Finireste E c'è plagio poi Eh infatti La pista se a Ferragosto Vai a ballare Perché Per agosto Vai a ballare E senti Gurulandia Oggi Intervista Pagante No È una hit incredibile Grazie a tutti